C'è stato un incidente ieri notte. Un ragazzo diplomato qui da poco è stato ucciso. Avete appena traslocato, vero? Come lo sai? Vivo accanto a voi. Abbiamo trovato un altro corpo completamente dissanguato. Quanti anni hai? 12, più o meno. Che vuol dire più o meno? Per piacere non vedere più quel ragazzino. Ti sei fatto male? Sei compagni a scuola. Ti devi far rispettare. Ti aiuterò io. Facciamo un patto. Tieni. Abby! Sono stanco di tutto questo! Io non ce la faccio più! Tu sei un vampiro. Ho bisogno di sangue per vivere. Chi c'è? Ehi, stai bene? No! No! Blood Story, al cinema. Ehi, stai bene. 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 Grazie per la visione!